Buon pomeriggio dare Parlamento potrebbe svolgersi lunedì l'incontro fra il Premier Conte e i suoi due vice per ragionare l'agenda del governo dopo le europee. Di Maio esclude un rimpasto mentre Salvini ribadisce, nessuno ci chieda di aumentare le tasse. Dalle opposizioni appello all'esecutivo per chi ascolti l'allarme sull'economia di Confindustria e Sindacati. In collegamento da Montecitorio ci aggiorna Pilar Ottoz. Sì, Salvini è tornato a parlare anche di TAV con il voto di domenica scorsa, ha detto il Vice Premier conto che prevalgano i sì in tutta Italia.